pace e bene cari fratelli e sorelle bentrovati in questa seconda domenica del tempo di avvento risuona l'inizio del vangelo secondo marco visto il tempo liturgico nel quale ci troviamo cogliamo tre spunti che ci aiutino a viverlo con più intensità primo punto abbiamo proprio l'annuncio la proclamazione del vangelo di gesù figlio di dio vangelo sappiamo bene che significa buona notizia e nel mondo greco romano era legata a un annunzio di vittoria ora qual è la buona notizia di gesù di gesù figlio di dio è la buona notizia della salvezza e la possibilità in cristo di essere perdonati dal peccato di essere salvati dalla morte eterna di poter vivere per sempre in comunione con lui e l'annuncio della possibilità meravigliosa di far regnare dio nei nostri cuori di avere in noi il suo santo spirito di essere resi capaci di amare come lui ci ama in fondo miei cari a tutti piacciono le buone notizie chi di noi si alza la mattina sperando in annunzi catastrofici nessuno e tutti noi ce ne aspettiamo di belle chi si aspetta la bella notizia di aver trovato un lavoro di essere corrisposto in amore di superare una malattia di essere sano e non avere problematiche dopo una visita chi di vincere al super enalotto insomma ognuno gli metta le sue notizie che si attende che gli danno gioia ma vedete in fondo la notizia per eccellenza della quale abbiamo bisogno è quella di poter essere salvati dalla morte di poter essere liberati dal nostro egoismo di essere resi capaci di amare di saperci amati profondamente perdonati questa è la notizia per eccellenza che gesù è venuto a portarci infatti giovanni battista ci presenta colui che viene a battezzarci cioè ad immergerci nello spirito santo nello spirito di dio secondo punto noi cosa dobbiamo fare preparare la via del signore ecco risuona in questo testo un brano del profeta esaia unito a malachia non abbiamo il tempo di approfondire le differenze che marco riporta dall'originale ebraico però puntiamo l'attenzione su un fatto che il vangelo ci invita a preparare la via del signore a raddrizzare i suoi sentieri subito dopo ci viene proposto giovanni battista che battezzava per un battesimo di conversione cerchiamo di capire l'invito grande che ci viene fatto è quello di preparare la via del signore cioè disporci ad accoglierlo e ci viene chiesto di raddrizzare i suoi sentieri che significa in che senso abbiamo storpiato i sentieri di dio leggiamolo in chiave esistenziale la vita che dio ha sognato per ognuno di noi avendoci creati a sua immagine e somiglianza è una vita semplice fatta di amore di verità di trasparenza di sincerità di generosità noi tante volte per motivi vari dal contesto in cui abbiamo vissuto passando per i nostri peccati abbiamo invece reso tortuoso tutto questo e succede che viviamo nell'ambiguo nel camouflage cercando di mostrarci per ciò che non siamo né che vogliamo essere addomesticando le cose a nostro uso e consumo manipolando relazioni vivendo come maschere di carnevale non come persone ecco l'invito grande che ci viene fatto è disporci ad accogliere il signore mettendoci nella condizione di voler raddrizzare tutto questo e quindi cosa significa lo capiamo dal battesimo di giovanni il battesimo di giovanni non era come il nostro battesimo cristiano cioè non rimetteva il peccato originale né ti rendeva a tempio dello spirito santo era però un rito un segno l'immergersi nell'acqua e il risalire era il segno di voler morire alla vecchia vita e rinascere era come a dire mi riconosco bisognoso di perdono voglio rinascere a vita nuova voglio accogliere il messia che viene mi rendo conto che così non va l'invito che ci viene fatto per vivere in modo significativo non solo il natale ma in fondo per lasciarci rinnovare giorno dopo giorno dal signore e sempre partire da questa posizione esistenziale cioè non sentirci arrivati avere il santo coraggio di metterci in discussione di guardarci per ciò che siamo e davanti a dio lo possiamo fare perché siamo profondamente amati avere la grazia di riconoscere ciò che nella nostra vita non va smetterla di coprirci di camuffarci di scappare da noi stessi ecco perché dio possa entrare abbiamo bisogno di metterci in questa posizione esistenziale riconoscerci bisognosi del suo amore del suo perdono in fondo si parte dal lasciarci amare da lui dal lasciarci perdonare da lui quanto è liberante ad esempio vivere in modo significativo il sacramento della confessione non come lavaggio della lattuga prima di metterla sulla tavola ma come momento in cui io chiamo per nome i miei peccati in cui prendo atto responsabilmente dei miei fallimenti li presento a dio attraverso il sacerdote per ricevere in cambio incredibile la sua vita il suo spirito in me il suo perdono terzo punto tutto ciò perché avvenga di cosa c'è bisogno c'è bisogno del deserto giovanni viene presentato come voce di colui che grida nel deserto e le folle andavano nel deserto per farsi battezzare da giovanni sappiamo bene che nel primo testamento il deserto aveva diversi significati è un luogo di pericolo mortale è un luogo dove si è ridotto all'essenziale ma è anche un luogo di prova ricorderete l'uscita del popolo di israele tutta la traversata dall'egitto un luogo di prova dove sei messo alla prova ed è anche un luogo di trasformazione perché perché il popolo proprio attraverso il deserto arriverà dalla schiavitù dell'egitto alla terra nuova la terra promessa ma è anche profondamente un luogo di incontro con dio di intimità con lui proprio a causa di tutte queste difficoltà dell'essenzialità alla quale sei ridotto infatti è il luogo dove si scopre si vive un rapporto più profondo con dio quindi per vivere tutto ciò è importante ritornare al deserto e uno potrebbe dire ma come faccio andare nel sahara non posso ora più che uno spazio geografico il deserto può rappresentare anche uno spazio dell'anima cioè in ognuno di noi c'è un deserto dove noi possiamo lasciarci incontrare da dio è interessante perché in ebraico la parola deserto è midbar collegato a da bar che è parola c'è un luogo in noi dove siamo chiamati a lasciar risuonare la parola c'è un luogo profondo in noi che il nostro cuore è la parte spirituale il nostro io più profondo dove dio ci vuole incontrare dove dio ci vuole amare noi purtroppo tante volte non scendiamo nell'interiorità non entriamo in un contatto profondo con dio ci fermiamo in superficie perché perché abbiamo paura di scendere in profondità perché in fondo avere un po di contatto con noi significa prendere contatto con le proprie fragilità con le proprie paure con le proprie incongruenze e scendere scendere per incontrare lì il signore nella parte ancora più recondita e profonda ma noi a volte scappiamo da noi stessi e anziché scendere nel deserto preferiamo rimpinzarci di rumori di suoni di falsi bisogni siamo continuamente connessi col mondo ma sconnessi da noi stessi e peggio ancora da dio in fondo deserto dal latino richiama anche il termine de serere che significa sciogliere slegare se noi non ci sleghiamo da tante inutilità da tante distrazioni perniciose da tanti ingolfamenti nei quali ci infiliamo con tutte e due le scarpe noi vivremo sempre fuori da noi stessi anziché porci davanti al signore ascoltarlo lasciarci amare coltivare gli spazi della cura dell'anima come la preghiera come la contemplazione come la meditazione la lettura spirituale anziché nutrire la nostra parte più profonda ci fermiamo a rimpinzare di piaceri la nostra parte più superficiale potremmo dire così che bello sapere che il luogo dove dio ha emesso la sua parola al popolo di israele il deserto midbar è un luogo che è presente anche nella nostra interiorità il luogo dove dio ci parla medaber in ebraico ciò che parla sì il deserto è il luogo della parola è luogo dell'incontro profondo con dio e così la nostra interiorità ed è l'incontro con dio che è capace di far rifiorire i nostri deserti di far rifiorire la nostra vita e di conseguenza far rifiorire le relazioni le cose con cui siamo a contatto ciò che noi facciamo se la sua parola non entra in noi se non coltiviamo la relazione intima profonda con lui assisteremo soltanto a un'ulteriore crescente desertificazione nella nostra vita e in quella di coloro che ci stanno accanto cogliamo allora questo tempo come un tempo fecondo per rientrare un po più in noi stessi per lasciare che dio parli un po più ai nostri cuori disponendoci a seguirlo seriamente senza paura di metterci in discussione di riconoscere ciò che non va di chiedere perdono perché perché il signore è venuto a portarci la salvezza l'annuncio di gioia meravigliosa siamo amati siamo cari a dio siamo figli di dio nati per vivere in eterno e per non morire mai che il buon dio vi benedica a tutti pace e bene meravigliosa